Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Oggi voglio mostrarvi cosa uso per lavare le mie labbra. Devo usare il caffè, il caffè biologico, l'olio, l'olio, qualsiasi olio che puoi usare, e il miele, miele, e l'acqua tepido, e l'acqua, l'acqua. Quindi metto un cucchiaino, un cucchiaino di caffè, un cucchiaino di caffè, e un cucchiaino di miele, e un cucchiaino di olio, e acqua tepido, acqua tepido, e dopo misto così, venite, ho finito, quando ho finito, con questa qua, questa qua, metto così, dopo dopo devo aspettare 25 minuti dopo vado a lavare, con acqua tepido, dopo vi mostro dopo lo scrub, vedete il risultato, potete vedere diverso di prima, morbido, quindi, seguitemi, dopo vedete altri video. Ciao ciao!